Una delegazione egiziana guidata dal Vice Ministro e Presidente dell'Autorità Internazionale per lo Sviluppo e il Commercio della Repubblica d'Egitto, Ibrahim Ashmawi, ha preso parte a una visita al CIS Interporto di Nola. Nell'ambito del più ampio evento Napoli, il Cairo, opportunità commerciali tra Italia ed Egitto. Mi piace essere qui ospite dell'Interporto oggi. Uno dei principali settori di interesse per l'Egitto è quello del settore logistico, certamente, perché è un settore che supporta proprio la crescita dell'efficienza in termini economici del mercato. All'incontro presso il Palazzo dei Convegni del CIS Interporto di Nola, organizzato dal CIS e dall'International Consulting for Future, STA, con il patrocinio della Regione Campania e del CIS Interporto di Nola, presenta anche il Sindaco della città Gaetano Minieri. Noi come territorio confidiamo molto nella nuova governanza per la gestione del CIS Interporto Vulcano Buono e loro sono stati poco precursori dei tempi, individuando il nostro territorio come un'area baricentrica rispetto alla Campania, rispetto all'Italia e rispetto al Mediterraneo. Per cui l'unione dei popoli, a parte dal commercio e arrivare alla cultura, da lì si può anche costruire la pace, che è un momento delicato in cui vive il Mediterraneo. Si sono confrontati diversi rappresentanti di società egiziane che hanno preso parte a un networking meeting al fine di scambiare contatti con le aziende italiane. L'amministratore delegato di CIS Interporto Campano, Claudio Ricci. Sì, siamo focalizzati sia sullo sviluppo che sulla crescita, quindi crescita significa attrazione degli investimenti ma significa anche internazionalizzazione delle imprese. Oggi è un'occasione veramente importante, la delegazione dei egiziani a cui è presente è di altissimo livello, non è una visita di cortesia, è una visita di business con l'obiettivo di portare a casa risultati e non semplicemente strette di mano. Siamo molto fiduciosi e siamo convinti che sarà un primo passo di un percorso che non finisce stamattina.